Il fatto che lei abbia citato Salvini dimostra qual è la sua posizione. Salvini è uno dei più grandi razzisti d'Europa e se lei accetta quello che ha fatto Salvini, allora vuol dire che lei fa parte di quel gruppo. Grazie collega che sicuramente si beccherà una bella denuncia e con questi soldi pagheremo magari qualche italiano che purtroppo non può accedere alle case popolari perché in Italia purtroppo le case popolari vengono date prima ai Rom in tantissimi casi che saltano le liste. Ecco vi racconto una storia, forse non c'è tempo spero di avere un altro blue card perché a sette anni mi portarono a visitare un campo Rom. Ecco vent'anni dopo da sindaco quel campo Rom dove c'erano bambini nella sporcizia e tra i topi l'ho sgomberato e ne sono fiera.